In palleggio, c'è Morman su di lui, quindi Ricci, Datome prova lo svitamento, si gira la classe di Gigi Datome, c'è Tarceschi, Ricci e Datome, esce Datome, si alza da tre, Gigi Datome, messa per il Ciaccio, meno sette, si alza subito Datome, ancora Gigi Datome. Datome, si gira Datome, a proposito di fuoriclasse, i quali parlavamo prima, posto si va in contropiede con Hall verso Datome, nell'angolo scambia Hall, ancora Datome, Datome. Datome, 45 per andare a riposo, Hall va fino in fondo, quasi calpesta la linea, poi Datome si ferma, si alza, ancora Gigi Datome, anche lui campione d'Europa con l'Anadolu Efes, Datome, si alza subito da tre, Datome, ancora, forse da due. Gli spazio ancora per Caleb Tarceschi, ancora riposo per Kyle Hines, Datome, Hall, Tarceschi ha molto ben giocato comunque sinora, Datome si alza da tre, Gigi Datome, Gigi Datome, ancora. Datome esce in angolo, si alza e tira da due, segna Datome, segna Datome.